tanti auguri sì ma cosa si dice auguri di quacqua di quacqua sei sicuro che si dice cacqua lui che cosa c'è qua abbiamo un sacco di uova qua da aprire prima bisogna fare collezione auguri di buona acqua auguri di donna auguri caprone stiamo arrivando acqua tira ancora ancora di togliere qua dietro tira strappa bravissimo lei rotto tira 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 questo è spagnato tira 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 spaventino tira 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 forte forte neanche ti aiuto tira 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 bravissimo tira l'altro adesso attira questo tira 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 bravissimo tira 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 aspetta 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 metti giù prendi qua prendi questo tira tira verso di te tira 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 bravissimo dio che ho messo gigante che c'è mamma mia no non c'è niente devi rompere questo rompile è un uovo gigante visto salute e complimenti comunque no ma ti forte no così rompilo pagliaccio battito come lo ho detto piccolo forte più parte eccolo ecco il pezzettino lì ecco togli ma no togli il pezzettino a posto male fai così adesso poi via la cosa c'è dentro no ma mettilo da piccolino questo guarda che c'è no quello guarda se se è possibile non fai più cacca dopo per una vita adesso devo farlo sparire chi è chi è calimera chi è quello lì abbiamo anche questo tira qua tira tira forte bravissimo oddio un altro uovo gigante rompiamo anche questo dai pronti chi è cosa c'è dentro lì cos'è apriamo la sorpresa rompilo rompilo adesso no no lo mettiamo qua questo basta chi c'è chi c'è ma c'è orso ma cos'è no che bel gioco guarda che tiriamo via la carta però guarda la calimera lo dai alla mamma quello lì grazie amore non prega niente bisogna lanciare questi vediamo se può facerle fa ecco ecco tipo il bucatino l'altra sera che non gli andava fuori bravissimo bravissimo mi sa che stai parando no no lo apro io è mio questo no no è della mamma questo no è della mamma questo se mi dai un bacino te lo lascio aprire te apri lo temore è tuo apri io amore devo fermo io l'uovo perchè sennò rompe l'uovo dai l'asse che rompa l'uovo che dopo ne rompe gli uovi tutto il dì sennò ecco così dopo ne rompo più per oggi ha finito di rompere le uova la mamma dopo l'asse che chi ho perduto la mamma apri la mamma cos'è? le carte da memory e finora il regalo più bello era l'uovo che costava meno mamma non è vero questo qua è un gioco interessantissimo interessantissimo memory sveglia la mente niente non è uguale qua c'è quella gialla e qua c'è quella rosa adesso tocca il papà no qua c'è quella verde e qua c'è quella rosso adesso tocca la mamma niente quella davanti Alessandro ha trovato una coppia hai barato così dov'è questa qua gialla? l'hai vista prima? io 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 tocca la mamma dov'è questa qua gialla? l'abbiamo già vista prima dov'è Ale? no dov'era quella lì? ce n'è un'altra è qua dov'è quella uguale a quella lì? dov'è quella uguale a questa? ce l'ha detto dov'è l'altra? ce ne sono due dov'è l'altra signorina qua? dov'è l'altra signorina qua? due otto ma no è qua gira questa tento che è uguale gira questa qua gira uguali e dov'è quella uguale a questa? e qua qua ma qua qua ci sono tutti quanti lì tutti insieme e secondo me sono qua no c'è quella rosa come questa? qua no doveva già girare a papà qua eccolo ta 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 uguali non sono uguali sì ah no sì uguali no non sono uguali va bene va a barare anche a te eccolo ta 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 dai lo facciamo al contrario di girarli come fate farlo al contrario scusa? trovo quelli uguali hai? trovo quelli uguali quali sono quelli uguali? quali sono quelli tutti uguali? tenne via dai trovo quelli uguali ooooo non serve farla mazia solo non l'ho dato dov'è quello uguale a questo? dov'è? dov'è l'altro signorino uguale? dov'è? ma non so cosa vuol dire uguali secondo me come questo qua un altro no? no vicino no guardale questo mettili vicini vedi che sono uguali eh? vedi che sono uguali dai che li troviamo tutti uguali prova no dov'è che è quello uguale a questo? è su quei edifici quello lì? non è niente quella e questo è uguale a quale? guarda qua quella uguale a quello lì? guarda qua bravo amore mio questo? è Peppa la Peppa qua dov'è? guarda qua qua dov'è quello uguale a questo? ecco l'Uriale prendilo questo qua è uguale a quale? no ce n'è un altro di uguale? no bravissima guarda qua guarda qua tienilo vedi anche a te Duda che amore anche tu mangi lo vedi? ma ci mangi dai po' reggetto mangi lo vedi dai lo rompiamo? lo rompiamo perché sei una orecchiarella che non è capace di romperci un nuovo no no mangiarlo così Indira così ehi oh Ludi era buono lo vedi? bevi si amore non ce n'è più? eh? com'è che si dice oggi? anche ma anche? ma come si dice? tanti? qua qua tu sei il mio vento sei il mio vento sì che sei il mio vento sì che sei il mio vento mamma dimmi guarda cos'è? 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 non è una tartaruga quella lì è calimera prova a dirlo ca? cacmea cacmea no non è una tartaruga quella lì è un pulcino no è un pulcino è una coca piccola no quella non vedi che ha il becco no no quello è dai ecco ah ma cosa fai? cosa fai? adesso vengo lì e ti mangio 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 vada allora ah peste papà hai fatto gli auguri all'indira? no non gli hai detto tanti auguri all'indira? mamma mamma eh? tieni nuova dammi quello non ci passa amore è la mano della mamma ecco mamma la mamma la mamma deve stare a puntire Ale ecci 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 ma miseria mamma eh papà hai visto? yeeeh no dove è andato Ale? si è nascosto si è nascosto si è nascosto eccolo nooo ah eri qua eri qua ci sono i piedini fuori nasconditi meglio come qua ci sono i piedini fuori nasconditi i piedini nasconditi i piedini dai che rifacciamo nasconditi nasconditi che noi ti cerchiamo dove è Ale? si è nascosto si è nascosto che casino dove è andato Ale? adesso lo cerchiamo io vedo un piedino lì ahhh mi sa che l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato pregata pregata papà ancora ancora ma devi nasconderti meglio però bene bene devi nasconderti due coperte due coperte stai fermo eh sennò si muove ti vediamo quindi dire dov'è Ale? cerca cosa è Ale? cosa è qui? per quanto è dietro a te? la Duda nasconditi la tenda ti sei nascosta anche tu mi dirà dove è Ale? vieni e cerca cerca Ale la tenda la tenda la tenda dove è Ale? la tenda dove è Ale? cercalo mi dirà dove è Ale? prendilo prendi Ale prendilo dove è? stupendo dove è Ale? dove è Ale? dove è Ale? dove è Ale? prendilo prendilo eccolo ho trovato papà come va? dove è andato Ale? dentro la tenda cosa è dietro la tenda? io non vedo nessuno là dietro la tenda sei nascosta dove stiamo andando ale e chi c'è lì chi è ma il ga si chiama matti ma cos'è ma loro non lo sanno chi è chi è e cos'è un cane ma cos'è un cane è dal nonno mauro che c'è ma finché non è un gatto non è un gatto no cos'è una tigra una pantera ecco merda io mi sono svegliato alle 8 sai per andare a prendervi la collezione sono stato letto fino alle 10 sì ma che ora si è addormentato ieri sera sei andato a lei ma che ora iniziato a dormire alle 10 hai 10 io mi sono realizzato alle 8 perché a mezzogiorno dovevamo essere del mio papà e a mezzogiorno è pronto a mangiare a mezzogiorno dell'orario vecchio siamo in orario con l'orario nuovo non siamo tanto in orario che stress è uno stress papà è uno stress mamma vediamo dai mamma la mamma doveva restaurarsi no e sì no è bella la mamma grazie la duda è bella la mamma è brutta la duda è a casa sì amore perché dentro c'è il gatto dal nonno e quindi succede una guerra invece fuori ha piantato l'erba quindi non poteva venire oggi la duda ma non può amore oggi ciao 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 come no ma vuoi bene la mamma il popo vuoi bene la mamma niente è bello il popo e vuoi bene il popo e la mamma bella mamma ah grazie e vuoi bene la mamma amore il mio ma 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 la mamma è bravito bravo così tira dai 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 bravissimo guarda che cammola cosa ci sia dentro è un tattù a quello tanto fa pescetti e nate mangiamo una nasce a reso la tunica eccola dai 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 che arriva dai ecco fatto dopo il petro bravo dai 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 bravo dai no no ho tutto quello lì amore dai apri tutto vediamo se ha presa apri stai vediamo cosa si dice? per piacere dai per certo cosa ci sarà lì? parmi a caliero chi è? calimiero adesso abbiamo il moschietto e la femminuccia che ho perso a noi è tutto sfocato tieni apri questa è una cosa che ho regalato a Manuel attenti il pirla siamo fermi a un semaforo sta aprendo i finestrini e adesso non arrivi non arrivi forse è un po' eh scendiale e ora c'è era un acceleratore acceleratore un pochino acceleratore da che la c'è romore c'è l'era di che hai sonati sei notrato macchio ecco qua l'era non era la sarà patica guarda allies un po' è They non è proprio ma la c'è guarda semble quelli che tappati le orecchie Ale no piangere amore è il sonno senti a macchina ... ... è un orgasmo senti, 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 senti senti, senti eccoci a casa, sono già in modalità nonnetta sono già in modalità nonnetta, non so se vedete adesso mi devo assolutamente andare a struccare e non mangieremo neanche stasera sono le 8 e con quel che abbiamo mangiato a mezzogiorno penso che siamo a posto per una settimana io non ho mai visto così tante uova in vita mia, Ale ne ha prese 6 solo lui, ho uova cioè ho pesato prima le uova sono un chilo e e mezzo di cioccolato che si inizia già a far vedere molto bene e non ho più finito niente ragazze perché dopo che avete visto ho il giro in centro di Lamborghini mi si è scaricata la batteria e vabbè che comunque non avrei filmato perché siamo andati a trovare la nonna di Manuel che è in una casa di riposo poi siamo andati a trovare la mia nonna a casa c'erano zii, parenti e Ale da gestire perché non ha mai dormito poi siamo tornati qua e siamo andati a salutare l'altra mia nonna zii, c'erano mio papà che erano prima della mia nonna e quindi niente si è arrivati a casa adesso Manuel sta facendo il bagno con Alessandro e io e io niente vado su a struccarmi e poi ci metteremo nel divano e domani è il compleanno di Indira tra l'altro per domani non abbiamo ancora deciso nulla quindi non so cosa faremo domani ecco niente ragazze io vi mando un bacio e ci vediamo penso domani sì dai penso domani ciao cosa stai facendo qua Duda? eh? le coccole gli fai le coccole gli vuoi bene l'Indira? anche il popo è bene anche il popo è bene ma tutto bene ma gli vuoi bene l'Indira? oh piccolo piccola oh piccolo questo è il regalo per Indira per il suo decimo compleanno reazioni Duda Duda tanti auguri tanti auguri amore auguri di chi è questa? di chi è eccolo di chi è questa? di chi è? pronti via mamma guardate la pittina da piccante auguri dalle alla Duda è sua quella lì per il suo compleanno la mia palla datemi la palla eccola di chi è questa? Duda vada tanti auguri fuori fuori tanti auguri fuori tanti auguri dai tiraglia aiuta aiuta dai sa te dai hahaha kill ahhhh uuuuuh hee hee bw ahhh haha